I nostri colloqui proseguiranno a cena dove affronteremo le principali questioni dell'agenda internazionale, chiaramente parleremo della crisi a Gaza dove entrambe le nostre nazioni sono impegnate a fornire assistenza umanitaria della situazione nel Mar Rosso che ha ovviamente ripercussioni sulla stabilità e sul commercio mondiale, ovviamente di Indo-Pacifico, area strategica di rilevanza globale che deve fare i conti con importanti anche nodi regionali. Parleremo ovviamente di Ucraina pochi giorni dal 24 febbraio anniversario dell'avvio della guerra di aggressione ad opera di Mosca e sono tutti i temi sui quali devo dirlo ancora prima insomma di parlarne col primo ministro giapponese c'è una forte convergenza di vedute che è un elemento di base della nostra salda amicizia quindi grazie davvero per l'accoglienza e grazie per la capacità che abbiamo avuto di rafforzare ancora di più i nostri rapporti. Grazie Presidente Meloni ed ora diamo termine alla conferenza stampa congiunta del vertice Giappone Italia. Ringraziamo tutti i signori che hanno partecipato a questa conferenza stampa. la media è pregata di attendere finché i due leader escono dalla sala. Grazie Grazie. 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 Grazie.